Allora Spank, ognuno ha le sue tattiche, le sue strategie, si dice line in inglese, quando tu vai da una donna per conquistarla c'è la frase effetto, tu sei sempre spontaneo, c'hai delle frasi che funzionano e a questo punto se ci fossero delle frasi che funzionano da parte degli ascoltatori vorrei che qualche uomo in ascolto sulla nostra pagina il volo del mattino che ormai ha raggiunto quasi 19 mila iscritti o comunque su diretta chiocciodj.d ci scrivesse quali sono le frasi con cui conquistano le donne perché avere la bella line funziona, tu per esempio Spank, passa una donna adesso, se tu vuoi conquistare quella lì cosa fai? Porto fiore. Ma hai bestemmiato? Cos'è che hai detto? Porto fiore. Ah porti un fiore, ho capito, porto un fiore, allora porti un fiore, ah bravo bravo bravo, poi dopo la porti a cena e cosa fai? Paghi la cena? Cosa? Stai bene? Scusate, cioè paghi la cena, no? Cosa? Cioè non paghi, paghi tu no? No, 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 no. No, va bene, ok, allora andate a casa, vetti e fate l'amore, fate l'amore. Sì. Sì, dopo che hai fatto l'amore cosa fai? Fumo. Fumo. Ma poi ti fermi a dormire? No, 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 no. Ma guarda che ti devi fermare a dormire. No, 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 no. Stai bene? Vabbè, scusami, cosa ti dici per andare via? Io vado, eh? Vado, ciao. Cioè gli porti un fiore, però non gli paghi la cena, ciuli e vai via. Ma ti facevo un romanticone, invece no. Ma devi pagare tu la cena. Stai bene.